Dunque, allora, ultima lezione di questo ciclo di incontri che ogni volta ci ha chiamato a discutere e oggi lo farò in maniera stringata per punti, così se il tempo non basta potrò anche tagliare senza dare l'impressione di amputare il discorso sul vivo. Ciò a cui siamo stati chiamati è lo spiegare, mettere in chiaro, perché gli autori di questo microcanone che abbiamo composto per l'occasione sono appunto irrinunciabili. Montale chiude, come abbiamo detto, il ciclo di questi incontri e la categoria dell'irrinunciabilità, per come è stata intesa nella preparazione di questi incontri, non è evidentemente una categoria estetica, una categoria legata appunto al gusto, alla bellezza, alla resa espressiva di un autore. Non è una categoria legata quindi al valore in sé, ma invece una categoria di tipo funzionale. E cioè ci siamo chiesti in che misura e quanto un autore sia necessario per comprendere e spiegare la letteratura italiana, quindi come un autore possa essere usato trasversalmente, diciamo così, la letteratura italiana, dicevo, è nel caso di Montale la poesia di tradizione lirica, evidentemente. Quindi, diciamo così, come poter usare un autore anche, come dire, proprio come strumento per leggere l'intero arco cronologico della nostra tradizione, in questo caso tradizione lirica. Vi dicevo che per Montale ho cercato di isolare 11 punti, o comunque al di là del numero di un decaloco eccedente, però diciamo dei punti specifici, a mio parere significativi, per cui Montale appunto può essere a tutti gli effetti, al di là del fatto che sia un grande, inserito tra i nostri irrinunciabili. Allora, il primo punto è questo, secondo me, cioè perché Montale ha la capacità, è una questione molto generale, cominciamo dalle questioni generali e poi andiamo, spostiamoci sempre di più al particolare, Montale ha la capacità di mostrare, mettere in chiaro e anche argomentare nei suoi scritti teorici, la natura dei percorsi dell'invenzione che portano alla creazione poetica. Adesso mi spiego meglio. Montale è un autore che riflette su se stesso e dà una chiave di lettura importante, perché è in qualche modo universale. Adesso vedremo. Cerco di spiegarmi. Non c'è autore, non c'è anzi poeta, a cui non sia stata rivolta la fatidica domanda. Zanzotto lo diceva sempre, che non ne poteva più di sentirsi chiedere che cos'è la poesia, da dove sorge, da dove arriva la poesia. A questa domanda, a cui tutti hanno risposto, i grandi da Ungaretti che diceva la professoressa, ad altri, sostanzialmente identifichiamo due tipi di risposte. Allora, ci sono poeti che si concentrano su una fase, diciamo, della creazione poetica che è sostanzialmente la messa in forma di un pensiero. E cioè, a domanda che cos'è la poesia, ci sono poeti, Ungaretti in particolare, ma anche altri, che decidono, che spiegano come impastano, diciamo così, il materiale verbale per dare forma alla poesia. Quindi spesso la risposta è concentrata proprio sull'organizzazione formale, diciamo così, del testo poetico. Cioè, l'interazione sinergica di tutti i livelli della lingua in chiave, appunto, di creazione artistica. Poi però c'è un altro gruppo, diciamo così, di poeti che risponde, ognuno a modo proprio, naturalmente, in un altro modo. E cioè, chi si focalizza proprio sul primo atto della creazione poetica, sull'origine, sulla fonte, non sulla messa in forma successiva. Si parla quindi di ispirazione. Sono parole grosse, no? Vasto programma, avrebbe detto chi sappiamo. Certamente però Montale lo fa, insieme forse a Zanzotto e a pochi altri, nella maniera più specifica. C'è sempre un po' di imbarazzo a parlare di ispirazione o a parlare dell'origine della poesia, perché sembra di toccare, diciamo così, una sorta di ambito molto sdrucciolevole, ma anche in qualche modo inclassificabile, no? Indicibile, no? In realtà, quello che fa, per esempio, Montale è definire la nascita della poesia in questo modo. Lui, come sapete, è una citazione molto celebre, prende la definizione da Tommaso Ceva, che è un gesuita, poeta e matematico, vissuto tra il 1600 e il 1700, e dice che la poesia non è altro che questo. Lo si trova ben argomentato negli scritti sulla poesia. La poesia non è altro che questo, un sogno fatto alla presenza della ragione, come sapete, una celebre citazione che poi, appunto, spiega e argomenta, dicendo che, sostanzialmente, una, diciamo, direttrice della poesia, e lui ne fa proprio una questione di poesia europea contemporanea in quel testo, una direttrice della poesia si occupa di, diciamo così, intensificare il valore formale del testo poetico, in qualche modo staccando, sconnettendo, lui dice la parola, la lingua, dalla ragione, dall'intelletto, sostanzialmente. Montale, invece, come dire, fa prevalere le ragioni anche dell'intelletto, e cioè la poesia è vero che è questa forza propulsiva, no? E anche orchestrazione formale, però sempre sorvegliata, lui dice l'importante è questo, questo è il principio assoluto, sempre sorvegliata dall'intelletto. Quindi ci dà una categorizzazione dell'origine della nascita del testo poetico in termini, diciamo così, generali e teorici, come peraltro hanno fatto altri. Zanzotto, che, insomma, citerò spesso, semplicemente forse perché lo conosco un po' di più di altri, diceva che la poesia, aveva una bella definizione, la poesia è una forma, nasce da una forma superiore di entusiasmo per la vita, per esempio, no? C'è una specie di, come dire, esondazione quasi di gratitudine, un inno nei confronti dell'esistenza e dell'esistente, che spesso, dice Zanzotto, nasce quando si è costretti a guarire molte volte. Poi lui argomenta, insomma, era un poeta che aveva un rapporto complesso con la propria salute psichica e diceva, appunto, chi ha qualche faglia psichica è portato, è costretto ad aver guarire molte volte. Questa guarigione perpetua, diciamo così, intensifica, lui diceva, la salute e quindi l'entusiasmo della guarigione porta alla poesia. E poi potremmo fare mille altri esempi. Sarebbe bello fare tutto, diciamo così, una piccola antologia del che cos'è e come nasce la poesia. Avete presente Penna, che era il meno poeta di tutti i poeti, quando diceva, ma io non voglio scrivere, cioè la poesia, io proprio non la vorrei, ma la scrivo soltanto, è una forza che preme, 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 io la scrivo soltanto quando proprio non posso non farlo. Infatti, come sapete, scriveva e perdeva l'80%, il 60% di quello che scriveva in fogliettini regalati, anche a Montale, come sappiamo, donati e lasciati, insomma, non si ideologizzava come poeta, diciamo così, Penna. Questo per quello che riguarda la parte teorica. Importante perché anche dal punto di vista, diciamo così, didattico, io non ne so molto, però vedo all'università, insomma, fare un ragionamento anche sull'origine del testo può aiutare a, come dire, emancipare da un'idea di poesia come una specie di illuminazione, di connessione allo spirito universale e di trascrizione, da una parte e dall'altra, a un'idea di poesia come lavorio formale estremo. approfondire questa, diciamo, anche solo attraverso le dichiarazioni, in particolare in questa di Montale, queste, diciamo così, ragionamenti sull'origine della poesia può avere, a mio parere, una qualche utilità. Montale lo fa, teoricamente, negli scritti sulla poesia e poi lo fa anche in pratica, per certi versi, perché, come sappiamo, la raccolta, le occasioni, e in particolar modo i Mottetti mostrano proprio in piena luce, in chiaro, lo ripete molto sia sugli scritti, negli scritti sulla poesia, sia anche nell'epistolario a Clizia, mette proprio in piena evidenza come nasce un testo, un testo poetico. C'è, c'è l'esempio che appunto faccio sempre, perché proprio si presta in maniera ultra evidente, il famoso Mottetto degli Sciacalli, no? Il Mottetto degli Sciacalli è, tra i Mottetti, forse il testo poetico che, più chiaramente, attraverso l'autocommento appunto che ne fa l'autore, più chiaramente fa vedere come una poesia materialmente è nata. Vi ricordate, vorrei leggere però, paura di perdere troppo tempo, in ogni caso sapete, è sempre nel solito libro che ho citato, e cioè negli scritti sulla poesia, in questo autocommento che esce molto tardi, la poesia è del 37, le occasioni sono del 39, come sapete, e l'autocommento è del 50. Un autocommento che esce sulle pagine del Corriere, scriveva da par sua appunto sul Corriere della Sera, e in cui lui racconta l'episodio. Dopo aver visto ammonticchiarsi nella tradizione dei suoi studi critici le più fantasiose interpretazioni di questo mottetto, che almeno cerco di ricordare la memoria per non perdere tempo a aprire il libro, la speranza di pure rivederti mi abbandonave, e mi chiesi se questo che mi chiude, lo dico male ma solo per richiamare il testo, e mi chiesi se questo che mi chiude, ogni senso di te, schermo di immagini, ai segni della morte o dal passato, e in esso ma distorto e fattolabile, un tuo barbaglio. A Modena, tra i portici, un servo gallonato trascinava due sciacalli al guinzaglio. Ecco, diciamo che la difficoltà delle prime due lasse non la tocchiamo formalmente. Ciò che fa problema in questa poesia è stata appunto quella più chiara, diciamo la strofa più chiara dal punto di vista sintattico, e cioè la terzina finale, quella appunto che parla di questi strani animali e sciacalli. Montale diceva ai suoi critici, questa è una delle poesie più realistiche che io abbia scritto, nonostante questo, come sapete, le simbologie, allegorie tra l'infernale, insomma, si sono squadernate tutta una serie di fonti per giustificare la presenza degli sciacalli in questo testo. In realtà, dice Montale, la poesia nasce così. La poesia nasce da un, lui lo chiama, il mio piccolo romanzetto autobiografico, dice questo, quindi da un episodio strettamente legato alla biografia dell'autore che un giorno si trovava esattamente come dice il testo, ecco perché a suo dire, e ce lo dimostra, è una poesia straordinariamente realistica, dice io ero a Modena per un prevedibilmente incontro di lavoro vicino alla stazione ed ero tutto preso, non parla, scusate, in prima persona parla di un Mirko, non parla di sé, parla di un altro, insomma, scrive il testo in terza persona e dice Mirko era tutto compreso nel suo solito pensiero dominante, quindi pensava al suo amore lontano, Clizia appunto, di cui poi diremo ancora qualche cosa dopo, nel timore di non poterla più rivedere. C'è un episodio, diciamo così, molto umano, minimale appunto. In quel momento, mentre passeggiava nei giardinetti della stazione di Modena, vede uscire da un albergo, un portiere d'albergo, sono in Livrea, noi i portieri degli alberghi o quantomeno lo erano, servi gallonati appunto per la divisa che portavano, che portava a spasso, dice il testo, due strani cagnuoli color champagne. Il personaggio di finzione, questa terza persona di questo, diciamo, testo di autocommento, si avvicina al servo gallonato e dice, e chiede appunto di che natura fossero, no? Cioè che razza di cani fossero quelli, perché lo colpiscono per la loro stranezza. E il portiere d'albergo risponde dicendo non sono cani, sono sia calli, siamo a Modena, quindi lo pronuncia così, e Montale lo scrive così, sono sia calli. Quindi probabilmente quei due cagnolini, che non sono cagnolini, ma erano nella realtà dei fatti sciacalli, erano sicuramente, aggiunge Montale, le bestioline esotiche di una nobile donna che aveva insomma dato il compito al portiere di portarli appunto a spasso nel giardino. Come mai sono così importanti lì sia calli o sciacalli? Clizia, a cui appunto il Mottetto è dedicato, lo sappiamo perché lo ripete in più luoghi della sua, diciamo, della sua opera, amava gli animali strani, i meticciati, gli animali che non avevano, diciamo, un'identità molto precisa. Questo c'è un testo molto interessante, molto bello, poi chi ha voglia potrà potrà leggerlo, proprio su il rapporto di Clizia con gli animali appunto, tipo sciacalli, tipo capi, tipo marmore, tipo che si intitola Reliquie, e nella Farfalla di Dinar, se abbiamo poi tempo magari ne leggiamo una parte, e poi c'è un'altra bella poesia in quaderno di quattro anni dove appunto si racconta che Clizia aveva questa, diciamo, passione. Allora il fatto di vedere qualche cosa che a lei piaceva così tanto fa esattamente l'occasione di poesia, non è più e nemmeno, fa scattare il, diciamo, il meccanismo del segnale, insomma, quello che è sempre stato, uno dei propulsori principe della poesia, e quindi la poesia nasce. Allora attraverso questo autocommento e a partire da questo testo, non soltanto Montale teoricamente negli scritti ci spiega da dove nasce la poesia, ma ce lo fa proprio vedere, no, concretamente, e questo può essere, vi dicevo, una delle prime ragioni per cui lo potremmo definire irrinunciabile, per questa meta-riflessione perpetua, appunto, sulle origini del suo lavoro. In secondo luogo, un'altra ragione che può, diciamo, collocarlo nel gruppo degli irrinunciabili è il fatto di riportare, diciamo così, di far tornare di moda, di riportare in auge la musa, la musa come figura femminile. Allora è vero che di oggetti di ispirazione la poesia lirica italiana è colma, il paesaggio, lo stesso luto e la stessa morte può essere un attivatore, la luna, no, banalmente, o massimamente la luna. Racconto, insomma, spesso racconto un po' per alleggerire il tono delle lezioni all'università, che si dovrebbe raccogliere, se non è ancora stato fatto, una piccola antologia, di tutti gli scritti di poeti dopo l'allunaggio, cioè dopo quando, appunto, l'uomo toccò quell'entità per ora, cioè fino ad allora, intocca e inavvicinabile come la luna, e in qualche modo la profanò, no? E' strano, ma tutti, chi più chi meno, hanno dovuto dire di questa specie di trauma, di shock, appunto, da Zanzotto a Caproni, si ricorda il professore ci leggeva quel brano su Tutto Libri, ad altri. Per quello che riguarda le figure femminili, come sappiamo, la poesia italiana è ricca e piena. Ricca e piena però una musa, diciamo così, femminile, sovraesposta e plenipotenziaria, angelo, guida, salvatrice, possente donna, come diceva Petrarca di Laura, ecco, di queste ce ne sono poi proprio poche, certamente Beatrice, certamente Laura, Eclizia si, diciamo, colloca pienamente in questa tradizione delle muse totipotenti, cioè di quelle che possono tutto, sostanzialmente, che soprattutto sono, e questo è un altro punto, a mio parere, molto importante, non soltanto attivatrici, Montale parla in una poesia molto bella di propellenti, cioè proprio non soltanto, diciamo, agenti propulsori della poesia, ma anche, soprattutto, garanti. Questa funzione del garante, adesso la vedremo, è un altro punto che, a mio parere, è importante da svolgere per capire a fondo la poesia lirica, quantomeno, della nostra tradizione. Sappiamo benissimo, su questo non mi fermo, che chi era Clizia, una donna, appunto, in carne e ossa, con delle, diciamo, caratteristiche, abbiamo la sua foto, la conosciamo, sappiamo che gli occhi di acciaio erano veramente occhi di acciaio, perché aveva, appunto, gli occhi azzurro-grigio, sappiamo da questo carteggio sette anni di lettere per 155 testi, soltanto quelli, naturalmente, di Montale, insomma, sono stati, sono stati conservati a partire dal loro primo incontro a Firenze, nel 1933. La storia tra di loro nasce, come sapete, come una fan che va dal suo, diciamo, come dire, dal suo idolo, e questo la dice lunga sull'idea di poesia che soltanto negli anni 30 si aveva, cioè c'erano, appunto, le ammiratrici dei poeti, e quindi Clizia va a trovarlo al gabinetto Vias e la storia è nota, lui fa il prezioso, non si fa trovare, poi, insomma, un po' per timidezza, un po' per altro, invece, si presenta, dicendo, beh, noi siamo sempre contenti di conoscere i nostri abbonati e poi da lì la storia, la storia continua ed è soprattutto una storia di lettere, come sapete, lei non viveva oltre oceano, c'era quest'oceano che lì, appunto, separava con tutta quella, diciamo, difficile, negoziato, tergiversazioni e differimenti sull'idea di ricongiungersi e stare assieme, quindi un amore contrastato nel senso della indecidibilità di un esito nella vita, però, invece, una relazione straordinariamente significativa rispetto allo schema che sta dietro quello che, appunto, Caproni chiamava il legame mosaico, cioè sul che cos'è una musa. Allora, da una parte, quindi, Montale, questo ci può servire per leggere, l'arco della tradizione rievoca, come dire, riporta al centro una musa femminile, cosa che non accadeva da qualche tempo e nello stesso tempo ci dice anche, ci spiega, ci rappresenta che cosa questa, diciamo, chiamiamola musa alfa, questa super musa nella sua stessa produzione rappresentava e come funzionava. Allora, ci sono tanti testi su Clizia, naturalmente, ci sono anche un sottogruppo di testi in cui Montale non soltanto scrive per lei come nei Mottetti ma di cui parla di lei, insomma, di cui la tematizza. Sapete che il momento, diciamo, di massima, come dire, con una brutta parola, funzionalità di Clizia, se la vogliamo proprio pensare come un attivatore di poesia è all'altezza delle occasioni e sappiamo che poi già nella bufera, fino a Madrigali privati in cui lei sparirà del tutto, diciamo, la sua la sua funzione cambia, diventa tutto quello che Clizia sarà nella bufera, cioè questa immagine di divinità, cosa che nei Mottetti, come dire, era più umanizzata. È molto significativo vedere però come e in questo Montale sulla cui onestà per certi versi o sulla cui sincerità spesso abbiamo tutti dei dubbi perché uno che mente spesso e volentieri che mette in difficoltà i suoi critici che non dà delle risposte plausibili insomma ci mette sempre un po' in sospetto però nella invece attaccamento adesso cerchiamo di dettagliarlo all'oggetto di ispirazione è invece straordinariamente vero e coerente in questo senso ad un certo punto il rapporto tra di loro nella poesia si interrompe cioè Clizia non funziona più in qualche modo da attivatore tant'è vero che lui in un testo molto molto tardo spiega bene quello che succede vediamo se lo trovo 612 ecco allora dal quaderno dei quattro anni l'immane farsa umana non mancheranno ragioni per occuparsi del suo risvolto tragico non è affar mio pertanto mi sono rifugiato nella zona intermedia che può chiamarsi inedia acidia o altro si dirà sei colui che cadde dal predellino e disse poco male tanto dovevo scendere ma non è così facile distinguere discesa da caduta cattiva sorte o mala ho tentato più volte di far nascere ed è questo il punto figure umane angeli salvifici anche se provvisori e se uno falliva ne si reggeva più sul piedistrallo pronta e immancabile anche la sostituta ad usata alla parte per vocazione innata di essere il doppio sempre pronto al decollo alle prime avvisaglie e a volte tale da obnubilare dell'originale volto falcata riso pianto tutto ciò che conviene al calco più perfetto di chi sembrò vivente e fu nessuno in questa seconda parte della poesia quello ho tentato più volte di far nascere figure umane e angeli salvifici Montale rende evidente quello che era proprio nella sua pratica poetica e lui in un altro testo che però non abbiamo il tempo di leggere dice la mia musa è stata una ed è stata solo lei ed è stata Clizia naturalmente tutte le altre figure femminili della mia poesia sono delle figuranti avevano qualche cosa di lei ho sempre cercato in altre qualche elemento di lei che potesse in qualche modo assomigliarle e quindi diciamo così sostituirla all'occorrenza però certamente lo dirà come sapete in quella poesia celebre che si intitola Clizia se c'è stata una vera musa è stata lei questa necessità quasi propriamente biologica dice in un testo di avere un oggetto di ispirazione forse il punto più vero più reale anche più importante della poesia di Montale ovvero è proprio vero che i Mottetti prendiamo l'esempio dei Mottetti sono una poesia della paura dell'allontanamento della distanza e della perdita e questo è un altro punto importante per cui Montale può essere messo tra gli irrinunciabili perché il rapporto stretto che esiste nella nostra tradizione tra poesia lirica e assenza mancanza asparizione per dirla alla Caproni o altre categorie Montale ce lo spiega ce lo fa vedere in maniera chiarissima come sapete non c'è Mottetto che non abbia nel fondo che non sia animato nel fondo da una sorta di come dire senso di pericolo senso di pericolo reale pensate la speranza di pure rivederti ma abbandonavo oppure non recidere forbice quel volto c'è sempre il timore di perdere diciamo così l'oggetto amato nella finzione poetica ma nella come dire profondità del legame mosaico quella paura di perdere l'oggetto significa e questo lo spiega molto bene in altri testi di tipo teorico significa aver paura di non poter più scrivere cioè aver paura di perdere la funzione musa diciamo così di perdere il contatto con l'oggetto lontano che nel caso di Montale era ecclizia ma lo possiamo rideclinare ecco perché può essere utile perché è un rapporto questo tra il poeta e l'oggetto di ispirazione variamente declinabile ma che funziona quasi sempre nello stesso modo un oggetto deve essere distante come la luna appunto pensate Zanzotto quando diceva io quando scrivevo vocativo stavo molto male ero nel letto guardavo la luna ed ero quasi convinto di poterla mangiare cioè tanto era come dire mi era presente pur nella distanza allora questo diciamo così legame stretto fondato sulla lontananza certamente in Montale si declina in un modo tutto molto molto tipizzato tutto molto molto suo la paura di perdere l'oggetto che è un oggetto biograficamente distante è proprio la paura di non poterla più lui lo dice in un testo in maniera bellissima richiamare a sé cioè richiamarne a sé diciamo così gli effetti di ispirazione è molto chiaro che però richiamare una musa non è appunto uno scampanellio in attesa appunto del suo arrivo ma significa l'attesa di un diciamo così esattamente come arriva Clizia cioè dell'arrivo di una donna angelo dal cielo improvvisamente attraverso tutta quella fenomenologia delle occasioni che appunto abbiamo abbiamo squadernate rappresentata perfettamente nei nei mottetti quindi dicevamo in primo luogo ci dice o comunque importante per la riflessione sulla come dire nascita l'origine il senso profondo dell'ispirazione poetica secondo punto e ce lo spiega teoricamente è nella pratica della poesia riporta al centro dell'ispirazione la figura femminile come da tradizione diciamo alta della poesia lirica ci spiega la funzione quindi il legame che lega il poeta alla sua musa il poeta al suo oggetto di ispirazione e ci fa vedere anche soprattutto nei mottetti ma anche in altri testi successivi in particolare nella bufera il senso e diciamo così l'importanza della distanza funzionale alla necessità di attendere l'arrivo della poesia ecco perché dicevamo la musa è un garante oltre che un propulsore cioè finché c'è finché la sua funzione in atto la poesia può essere ma la paura di Montale ed era proprio paura lui lo dice molto onestamente in questa diciamo frangente c'è da credergli se diciamo così l'occasione il particolare l'accadimento come appunto gli sciacalli al guinzaglio del mottetto non si realizzano la poesia non nasce e questo è importante per chiarire io forse ho una diciamo un punto di vista non so quanto efficace o plausibile però spesso mi capita con con gli studenti di di vedere come l'idea di poesia sia legata più non dico ad un atto volontaristico perché sarebbe troppo però ad una diciamo così grande abilità di orchestrazione formale del testo cioè come se ci fosse come non ci fosse quella quota di non voglio dire di inspiegabile però veramente di miracoloso in qualche modo che ogni poeta ha riconosciuto appunto per la sua poesia quindi forse dal punto di vista si potrebbe usare montale anche per come dire segnalare questo questo fatto che appunto i poeti diciamo così non sono garantiti sono appunto come diceva Zanzotto sgarantiti e insicuribili cioè attendono che la poesia che la poesia arrivi e spesso quando attendono non vivono bene sereni per esempio specie i poeti che scrivono poco i poeti che scrivono poco sono lì proprio nell'attesa quindi voglio dire non è un'azione a tavolino cioè non è la compilazione anche straordinaria ben orchestrata di un testo per molti è veramente l'attesa che accada qualcosa che diciamo generi la generi appunto la la poesia un altro punto che segnalerei scusate la scansione diciamo per punti d'elenco ma mi sembrava la più pratica è perché ci spostiamo quindi dall'ambito diciamo così della creazione del testo poetico quindi dai massimi sistemi a ragioni diciamo di tipo più storico più legato proprio alla storia della letteratura e alla storia della lingua letteraria allora Montale in particolare negli Ossi di Sepia quindi nella sua raccolta d'esordio 1925 come sappiamo dà corpo in una sola raccolta alle tre istanze che caratterizzano quel fondamentale passaggio d'epoca nella storia della poesia italiana che sta a cavallo appunto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento sappiamo che dal punto di vista della storia della poesia lirica e anche dal punto di vista della storia delle forme poetiche metriche stilistiche quello è un passaggio fondamentale forse una rivoluzione così profonda nella storia della nostra poesia non non l'abbiamo mai veramente registrata quali sono per schematizzare le tre istanze fondamentali che in quel periodo fanno diciamo così liberare adesso vedremo in che termini la poesia dai vincoli formali metrici stilistici lessicali che aveva per tradizione sempre avuto allora in primo luogo e poi riportiamo questo agli ossidi di seppia in primo luogo l'impegno che è un impegno ho sbagliato a usare la parola impegno è più legato diciamo così a una sorta di spirito del tempo lo spirito del tempo porta in primo luogo verso la liberazione dai lacci della tradizione soprattutto dai lacci della tradizione diciamo così formali per quello che riguarda la poesia non ho bisogno di dire futurismo avanguardia crepuscolare insomma il periodo è quello e c'è il testo viene fatto in qualche modo esplodere e tutto quello che c'è stato prima viene guardato da ogni poeta da ogni scuola poetica ognuno diciamo ciascuno a modo proprio Montale come dire rideclina questa necessità di emancipazione e in certi casi come nel caso dell'avanguardia di emancipazione violentissima fino alla deflagrazione della tradizione poetica a modo proprio e cioè istituisce come sappiamo negli ossi di seppia un suo verso il verso montagliano il verso appunto 5 più più 7 o 7 più 5 quindi una particolare tipologia di verso costruita sugli emistichi dell'endecasillabo che sappiamo essere ipoteticamente comunque scindibile in due parti cioè un quinario e un settenario e lavorando quindi come sempre fanno i grandi non per grandi movimenti estremi ma all'interno della tradizione rimodula reinterpreta l'endecasillabo che non è soltanto in quel periodo un verso ma che la tradizione è proprio come dire il simbolo della tradizione tant'è vero che insieme alla fine alla morte del chiaro di luna c'era proprio la battaglia come per tutte le avanguardie dell'endecasillabo ecco quindi questo rinnovare dall'interno la tradizione senza abbandonarla senza ripudiarla senza farla saltare del tutto questo è uno dei diciamo così delle risposte alla prima delle istanze tipiche di questo passaggio di secolo come sappiamo dicevamo è lo spirito del tempo che porta alla liberazione soprattutto dai vincoli formali della poesia la metrica libera in questo periodo è diciamo così il prodotto di una per usare un termine clinico una lunga fase prodromica cioè una lunga fase diciamo così di preparazione che come sappiamo parte da la canzone libera leopardiana passa attraverso degli episodi non particolarmente significativi dal punto di vista della diciamo così del valore espressivo dei testi però passa attraverso come sapete la traduzione dei canti del popolo greco e dei canti lirici di Tommaseo cioè una traduzione allineare in cui i versi non sono più versi questo noi lo prendiamo come una cosa diciamo normale consueta ma non lo era fatto passa per Leo di Barbare Carducci nonostante se è stato un grande rinnovatore sia dal punto di vista del paradossale che appunto uno dei più diciamo forse il più ortodosso è stato poi quello in cui riconosciamo i primi sintomi i primi germi della nuova epoca sia dal punto di vista della forma perché libera naturalmente il verso cioè il verso delle Odi Barbare è un verso lungo bipartito certo deve fare il canto deve diciamo fare il verso ai versi della classicità però di fatto sono testi poetici che prescindono dalla metrica appunto della nostra tradizione ed è anche un episodio che si cita sempre sempre Carducci apre alla grande senza saperlo inconsapevolmente non è un processo ecco perché lo spirito del tempo non è un processo volontario apre alla grande liberazione lessicale tra 8 e 900 con quel famoso freni una parola così realistica così fortemente connotata così materica che in poesia la nostra poesia è appunto una poesia di perifrasi nobilitanti di giri di parole per dire l'oggetto concreto e reale che ci sta davanti agli occhi mentre evidentemente qualcosa in quel periodo portava sia alla liberazione dalle forme sia anche all'apertura dei campi semantici del lessico e questo è Carducci in questo passaggio di fine 800 ne appunto registriamo i sintomi i primi sintomi dicevo l'altro episodio significativo importante è i semiritmi di Capuana importante e non importante dal punto di vista naturalmente del testo non lo leggiamo certo nel canone della poesia da studiare e da sapere però certamente i semiritmi sono un'operazione esattamente diciamo dichiarata nel titolo sono delle semipoesie cioè è essenzialmente una prosa che va a capo in cui a fare scansioni e analisi e ricerche diciamo formali interne non si trovano delle ricorsività di un certo valore quello che voleva fare Capuan in maniera più consapevole infatti è il più tardo dal punto di vista cronologico era appunto di far vedere come si poteva fingere di fare poesia e sostanzialmente come fosse per certi versi anche legittimo sciogliere i lacci dei versi dei versi vincolati questi appunto i prodromi poi ci sono le varie diciamo così modalità tra 800 e 900 di ma non sto a ripetere perché non facciamo qui appunto una lezione di riassunto di ciò che accade poiché lo sapete meglio di me in questo passaggio di secolo Montale dunque dicevamo risponde a questa istanza di rinnovamento e di emancipazione dalla tradizione dall'interno come sempre fanno i grandi pensate il caso appunto di leopardi cioè modulando un finto endecasillabo sostanzialmente non entro in particolari troppo tecnici però il verso appunto montaliano degli ossi è effettivamente un verso che non soltanto è costituito dagli emistichi dell'endecasillabo e comunque dai due tipi di verso più ricorrenti nella nostra tradizione cioè il quinario scusate il settenario ma anche dal punto di vista dei rilievi e degli ictus suona diciamo così ci basti sapere che suona effettivamente come un endecasillabo e per percepire che le sillabe sono dodici bisogna contarle altrimenti il nostro diciamo orecchio abituato ad ascoltare appunto endecasillabi li percepisce questi versi esattamente in questo modo allora risposta dicevamo negli ossi alla prima istanza seconda istanza lo sappiamo tutti l'antidannunzianesimo sono evidentemente tutte collegate però certo l'antidannunzianesimo sappiamo è stato proprio uno dei come dire l'antimodello degli antimodelli in questo passaggio di secolo Crepuscolari Gozzano insomma Palazzeschi e la Fontana Malata insomma tutta la fenomenologia di quelli che non volevano essere dannunziani non ditemi poete tutta l'anti e la controretorica del poeta Vate come sappiamo Montale anche qui non con forti movimenti di ribaltamento come per esempio no il Palazzeschi della Fontana Malata fece cioè ti faccio la parodia sostanzialmente ti faccio il contro d'annunzio che cosa fa? fa quello che lo richiamo soltanto ma lo sappiamo perfettamente dice e d'annunzio però se si tratta in quel modo lì non lo supereremo mai perché tutti i movimenti reattivi sono semplicemente diciamo così una forma di celebrazione in questo caso dell'autore ma cambiata di segno come dire l'anti d'annunzio è sempre un d'annunzio cambiato di segno per liberarci veramente da d'annunzio bisogna avere in qualche modo la modestia di attraversarlo e di in quella formula celebre di attraversarlo e di farlo come una malattia infantile per esserne finalmente completamente immunizzati le citazioni sarebbero molte una delle più celebre oltre a queste appunto il torcere il collo all'eloquenza anche a rischio di un'anti-eloquenza e poi la grande apertura degli ossi di seppia più manifesto anti-dannunziano quantomeno diciamo così nelle dichiarazioni adesso vediamo se poi è stato davvero anti-dannunziano fino in fondo montale vi ricordate ascoltami i poeti laureati si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati bossi ligustri acantino le tre come dire piante d'annunziane per eccellenza quelle dei capitelli corinzi quelle appunto che sappiamo essere il rapporto con d'annunzio è un rapporto controverso fin troppo noto quindi non lo riprendo ma diciamo che dal punto di vista delle dichiarazioni di poetica certamente il lavoro di montale è esattamente quello che diceva e che effettivamente ha fatto cioè di attraversarlo di usarlo per poi superarlo senza però diciamo scavalcarlo con un'ampia falcata piccolo inserto diciamo così leggermente extravagante ma che può essere significativo dunque il testo di apertura cioè i limoni il testo di apertura degli ossi di seppia ci dice questa cosa qui cioè io non sono appunto un il poeta vatte sono uno che ama le strade che riescono agli erbosi fossi ove in pozzanghere mezzo seccate e così via agguantano i ragazzi qualche sparuta in guilla quindi diciamo così gioca in minore dicendo appunto che non ha nulla a che fare con quelle piante diciamo così nobili aulicizzanti come appunto i bossi i ligustri e gli acanti ama molto invece gli eucalipti come sappiamo negli ossi di seppia a chi ha un po' presente il paesaggio ligure ma anche il paesaggio diciamo così marino di per sé io non ho in mente quello ligure ma ne ho in mente un altro l'eucalipto non è una pianta come un'altra perché è una pianta parlante come sappiamo ha questi rami molto flessibili ha questa chioma è molto ecapelluto ha questa chioma con queste foglie leggere fittissime quando c'è un po' di vento quando c'è lo scirocco ma quando ho il libecio quando ci sono quindi dei venti che vengono dal mare il rumore degli eucalipti è il rumore del mare in quel momento è il rumore del paesaggio molto forte ce l'ho proprio nelle orecchie il suono degli eucalipti e negli ossi di seppia questa diciamo materia fonica dell'eucalipto viene fuori in maniera evidentissima tanto che Maria Luisa Spaziani sapete l'altra musa un po' figurante sostituta della bufera dei madrigali privati nello stesso diciamo che conosce Montale nello stesso modo in cui Clizia ha conosciuto Montale cioè si innamora dei testi che legge e vuole conoscerlo comincia a frequentarlo ad un certo punto nell'entusiasmo insomma delle grandi diciamo così dichiarazioni di ammirazione ad un certo punto lo dice lei in un'intervista gli dice beh insomma veramente soltanto tu potevi rappresentare dal punto di vista fonico il rumore delle fronde di eucalipto quando appunto c'è vento c'è vento di libeccio e Montale dice ma io veramente non so neanche come è fatto un eucalipto lei ovviamente si sconcerta perché immagina immagina che invece il rapporto stretto tra oggetto e figura nella poesia fosse fosse reale e qui Montale ci dice una cosa interessante dice no io avevo soltanto bisogno di una parola che suonasse in quel modo e che avesse quel numero di sillabe questo per dire che le dichiarazioni di poetica sono una cosa in generale nella poesia nella realtà dei fatti diciamo la dichiarazione un pochino in minore understatement di Montale nella poesia d'apertura degli ossi di seppia va comunque ben ponderata e ben letta quindi dicevamo eversione o comunque allontanamento e emancipazione rispetto alla tradizione anti d'annunzianesimo terza istanza ne potremmo cercare delle altre ma queste appunto le maggiori ristabilire c'è stato un forte bisogno in questo passaggio d'epoca a partire da quei famosi freni della stazione in una mattina d'autunno di Carducci di portare delle parole della realtà all'interno della poesia vi ricordate tutti i celebri attacchi di Pascoli contro Leopardi rispetto al mazzolino di rose e di viole che la nostra poesia può essere fatta da poeti che mettono insieme fiori che non sbocciano nello stesso periodo da questo dalla critica ad una sostanzialmente realtà immaginata ad una poesia che non aveva per tradizione effettivamente qua il discorso sarebbe ampio mai accolto realmente la realtà Pascoli tra le tante infinite cose che fa rinnovamenti metrici stilistici linguistici formali però dal punto di vista strettamente lessicale assume all'interno dei suoi testi termini specifici dico isolo soltanto quello perché poi è quello che rifarà montale quindi fitonimi e zonimi in funzione lui dice in un testo metafisica cioè a partire dai dati reali si trascende al di là di questo diciamo un movimento tipico come dire che caratterizza la poesia di Pascoli il fatto di assumere appunto termini soprattutto per quello che riguarda il paesaggio della natura termini specifici e come dire corretti rispetto alla realtà ai dati empirici è una lezione che montale come sapete continua quindi assume segue da Pascoli con però questo piccolo se proprio vogliamo andare fino in fondo questo piccolo passaggio a vuoto nel senso che alla fine anche la celebre riviere bastano pochi stocchi d'erba spada ad un certo punto quando un intervistatore gli ha chiesto ma l'erba spada non so neanche come sia fatta quindi ecco l'uso è un uso in qualche diciamo così per certi versi fittizio e strumentale del termine reale all'interno della poesia il primato è pur sempre della forma cioè della necessità di trovare parole che suonino come diceva per gli eucalipti o che abbiano quella misura quella misura versale in ogni caso è il solo che risponde contemporaneamente e in un'unica raccolta a questi tre grandi movimenti e in qualche modo fa grammatica per questo tant'è vero che non c'è poeta che non resti sconcerta tutti lo dicono insomma quando abbiamo letto gli ossi di seppia cioè è stata veramente una lettura deflagrante per tutti nelle memorie indistinte di tutti i poeti di quel periodo per questo appunto potrebbe essere diciamo giustificata la sua posizione tra gli irrinunciabili poi è anche vero che fa di più Montale cioè fa molto di più di quello che riusciremo che riuscirò a dire oggi e cioè è vero che rinnova abbiamo visto dal punto di vista della forma del lessico del potremmo aggiungere chissà quanti ancora livelli di testo per vedere come rielabora la tradizione ma è vero che la tradizione come appunto fanno i grandi viene sia dal punto di vista della metrica ma anche proprio dal punto di vista delle chiamiamole fonti riassunta completamente nel testo adesso cerco di spiegarmi parliamo sempre di ossi di seppia è ritorta e rideclinata cioè nella prima lezione abbiamo sentito il professor Beccaria che parlava di Dante appunto e il dantismo di Montale che ci ha spiegato e su cui appunto non torno più basterebbe pensare a meriggiare pallido assorto e le figurazioni da Pier delle Vigne dal serpi e sterpi no cioè il il dantismo di Montale non c'è neanche bisogno di ripredicarlo ma non solo riprende Dante e lo riassume quindi lo rideclina lo rimpasta nel testo e lo fa diventare appunto come dire materia sua questo è il lavoro dirò poi come rispose appunto ad un intervistatore che gli diceva ma abbia pazienza lei però copia Elliot copia Pound cioè noi troviamo nei suoi testi pezzi di questo e di quell'altro adesso questo lo dico lo dico tra pochissimo dunque riassume in sé la tradizione e la rielabora Dante certamente Pascoli ed Annunzio non so non so neanche a dirlo Mengaldo ha fatto diciamo in quei saggi celeberrimi tutta la catalogazione degli apporti anche delle rideclinazioni di Pascoli ed Annunzio nel testo nel testo montagliano riprende tanto e questo forse lievemente meno noto Petrarca Petrarca lo riprende in termini però non in termini di fonte diretta certamente in termini di una riassunzione di una modalità ritmico intonativa di Petrarca cerco di dirlo in due parole semplicemente perché qui entriamo forse un po' troppo nella in tecnicismi inutili allora il concetto è che l'intera tradizione italiana e anche non italiana come vedremo tra un po' con degli autori naturalmente prediletti viene riassunta nel testo e riformulata in modo da fare esattamente quello che diceva avrebbe fatto di D'Annunzio non lo supero ma lo faccio mio e lo faccio diverso in modo attraverso questo meccanismo di cancellare il D'Annunzio D'Annunzio perché cambiare diverso significa soltanto celebrarlo al contrario sostanzialmente non lo diceva per quello che riguarda Petrarca la situazione è più delicata perché appunto diciamo l'apporto ne parlavo proprio c'è stato un convegno a Siena il dissesto d'aprile non a caso l'hanno fatto quel giorno lì su Petrarca e ho discusso poi io non sono andata ma con dei colleghi dicendo proprio di questa derivazione della struttura ritmica del verso mutuata da Petrarca da parte appunto di Montale diciamo solo la base che cosa prende da Petrarca e quindi che noi negli rinunciabili non l'abbiamo messo ma se continueremo con gli rinunciabili forse il prossimo anno ci sarà perché effettivamente è ovvio che non si può non approfondire il tasso di rinunciabilità di Petrarca che cosa prende da Petrarca in primo luogo quella che come dire il suono dei sospiri petrarcheschi cioè la cosiddetta variazione ritmica nessun endecasillabo di Petrarca o settenario se ci troviamo in contesto di canzone ha lo stesso profilo ritmico in versi contigui per dirla in maniera più semplice gli ictus dei versi di Petrarca non sono mai gli stessi in versi vicini cioè cambia sempre la posizione degli ictus Petrarca questo sembra tanto sembra poco è tantissimo in realtà perché pensate agli andamenti giambici della poesia pre-petrarchesca anche quella dantesca accentata attona pensate a tutto quello che è stato il prima rispetto alla grande rivoluzione dei fragmenti ecco questo non far accomodare mai il verso in una dimensione diciamo così di di negna di eccessiva cantabilità insieme a tutta un'altra serie qui entriamo quasi nella psicopatologia Petrarca legata alla forma quindi non possiamo approfondirla lo faremo magari il prossimo anno ma insomma di tutta la serie di accorgimenti formali per generare questa diciamo armonia algida e superiore del verso quello ecco l'espediente più diciamo basico e dicibile senza troppa fatica e troppi tecnicismi è appunto quello cioè non far riposare mai il verso e dunque la cadenza del testo in un assetto ripetibile diciamo e questa è la prima cosa che Montale e devo dire fa scuola la variazio cioè i grandi a meno che non siano per altre ragioni cantilenanti di necessità pensate il novenario pascoliano cioè i poeti che somigliano quasi a delle filastroche ma lì c'è tutta un'altra ragione di storia della forma che porta a creare quel verso a far diciamo così a costruire a far costruire a Pasquali quel verso diciamo che questo è il primo dei lasciti petrarcheschi quando dico lasciti petrarcheschi vuol dire ricucire la storia della poesia lirica in un'unica agitata quindi anche per questo no irrinunciabile perché prende la lezione della poesia lirica alta un altro elemento formale che Montale deriva da Petrarca è la tecnica diciamo così dell'allontanamento pensate a qualsiasi testo petrarchesco dell'allontanamento degli elementi contigui cioè soggetto e predicato degli elementi logici che naturalmente dovrebbero nell'ordine delle parole stare vicini in modo da creare tensione formale interna dico così e non spiego troppo perché altrimenti avremo bisogno di testi di esempi ma sappiamo che Petrarca allontanano gli elementi estenua il testo certamente è una è un lascito della sintassi latina questo questo è ovvio però è vero che nel diciamo spazio tra il soggetto e il suo predicato inserisce quelle che inserisce esattamente quelle che Montale inserisce nella sua poesia strutture estensibili cioè le serie di relative per esempio gli incisi le parentetiche cioè mette degli inserti tra soggetto e predicato che sono come dire allargabili estensibili a piacere questo è appunto un questa chiamiamola della differimento della chiusa lo dicono i petrarchisti cioè Petrarca allontana tende ad allontanare il momento in cui il testo chiude inserendo questi diciamo così questi tasselli questi tasselli non ho degli esempi ma avrei forse dovuto portarli l'importante che la struttura è quella per Montale pensiamo a che cosa fa nell'anguilla non ho bisogno di leggerla perché appunto è celeberrima e lì è una diciamo così differimento della chiusa portato sostanzialmente all'infinito perché è una poesia che non chiude come sapete il periodo resta sospeso e tutta una serie di accumulazioni che mancano appunto della diciamo così della soluzione finale dell'enunciato altro punto dicevamo il riassumere la tradizione il farla propria la tradizione italiana ma anche il diciamo così far convergere nei suoi testi e qui siamo negli ossi ma possiamo tranquillamente leggerlo in tutta la sua la sua produzione far convergere nei suoi testi tutta sostanzialmente la letteratura la letteratura e la poesia anche non italiana non c'è stato c'è una grande diciamo scuola linea critica che studia le fonti di Montale cioè gli apporti da altri da altre letterature da altri poeti e non c'è studioso di Montale attento ma anche non troppo attento che non ritrovi a ogni pie sospinto la certi da altri passi sintagmi interi versi potrei fare un elenco ma insomma sono tutti sbarbaro penna i quattro appunto che abbiamo elencato elliot sharpa insomma i classici quelli che tranquillamente ci sono noti anche qui l'operazione è e lui in un'intervista lo dice in maniera quasi inquietante di riassumere in toto la tradizione ma riarmonizzandola e reintonandola tant'è vero che era molto diciamo così insofferente rispetto agli studi critici che andavano a identificare appunto in una specie di puzzle l'ideale il pezzetto di Pound il passaggio pensate alla poesia no la volpe è char ma char nei suoi appunto testi più chiari e più vulgati e c'è quasi un testo che sembra che proprio sembra come dire una semplicemente una traduzione del testo di René Char quella no sono in ginocchio mia volpe no quel testo della della bufera perché era così insofferente montale rispetto beh insomma perché lo scoprivano nella sua natura profonda di uno che tendeva al furto naturalmente c'è anche questo però era così insofferente rispetto a chi andava come dire a cercare il tassellino e la particella di questo o di quell'altro autore perché diceva che la letteratura non è non va indagata no in questo modo nel senso che lo studio delle fonti la costruzione delle genealogie diciamo così ha un senso ma può avere un senso in una lettura storica ma non in una lettura di come dire identificazione dei pezzetti di un autore nell'altro perché diceva Montale una volta che un autore entra in un altro non è più lui cioè viene in questa specie di come dire amalgama in cui soprattutto e questo sarà l'ultimo punto il dato fondamentale è che gli autori e la tradizione e le tradizioni vengono reintonati no questo è l'acquidità della poesia no vengono dotati e riassunti in una voce nuova che non è quella dei testi di appartenenza allora l'identificare gli apporti dell'uno e dell'altro è assolutamente inutile anche perché Montale diceva sì io li prendo tutti e poi faccio meglio di loro no cioè come dire li li reimpasto meglio no era molto cioè non gli mancava no diciamo come dire l'autocentratura non mancava a Montale il fatto di di sapersi di sapersi molto bravo anche da questo punto di vista si potrebbe a partire appunto da questa idea di rinunciabilità concentrarsi sul no in una ipotetica lezione sul valore o meno di o sul significato più che sul valore sul significato dell'indagare le porzioni di testi no gli apporti di testi di un autore in un altro per esempio nel caso di Montale potrebbe essere un'operazione più legata ad individuarne non tanto le presenze non tanto quindi la presenza di quello o di quell'altro autore ma la legge in qualche modo della citazione no ci sono delle regole cioè c'è un modo in cui gli autori vengono citati no delle particolari ricorrenze di tipo sintattico soprattutto come vengono rielaborati quindi si potrebbe appunto fare una un lavoro di questo tipo anche mostrando che la letteratura no la diciamo la legge stabile e fissa che conosciamo bene che la letteratura nella maggior parte dei casi si fa con la letteratura stessa e Montale ne è appunto l'esempio degli esempi anche per questo appunto dicevamo collocato tra gli irrinunciabili poi diciamo un punto poco importante molto importante non si studia credo quasi mai però è anche vero che il suo grande non voglio dire amore perché sarebbe diciamo una retorica forse per Montale non così ben riposta però il suo diciamo così senso di necessità di riassunzione ecco della tradizione italiana e delle tradizioni straniere si vede anche nella sua scrittura diciamo così critica pubblicistica anche per questo è un irrinunciabile perché uno dei maggiori esponenti di quella categoria tutta novecentesca dei poeti critici cioè che continua tutt'oggi abbiamo una lunga una lunga appunto in questo caso si può usare la parola genealogia come sappiamo fu giornalista saggista autore anche di poemi in prosa la farfalla di dinari insomma di prose di prose d'arte e scrisse per tanti anni sul Corriere della Sera come sapete come anche censore e recensore di poesia prosa di lirica nel senso di opera di costume di società sempre con l'idea di non creare questo è una di quelle cose anche molto molto vere insomma in Montale cioè non c'è l'idea di creare un canone ad hoc cioè non recensisce quelli che gli piacciono solo quelli che gli piacciono solo quelli che gli somigliano come molti altri invece hanno fatto è vero che erano anni in cui c'era una maggiore libertà dal punto anche anche Caproni diciamo così nelle prose critiche che ha una come dire ampiezza di canone per cui davvero si può ricostruire la storia la cronaca letteraria di un'intera epoca senza pensare che ci fossero diciamo così etero direzioni o diciamo scotti da pagare piaceri da fare cioè era diciamo così erano canoni molto liberi e anche Montale effettivamente non non costruì per quello che riguarda soprattutto le sue recensioni agli scritti di poesia un canone un canone personale ma c'era più e questo lo dice bene quando parla del suo appunto secondo mestiere come 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 lo definisce è diventata poi una locuzione fissa cioè ormai l'attività pubblicistica dei poeti la chiamiamo tutti il secondo mestiere a partire da lui e dicevo appunto che questa necessità di cultura rapace quasi che aveva con queste illuminazioni gli scritti critici sono bellissimi insomma la famosa recensione avvocativo di Zanzotto è uno dei testi proprio rabdomantici soprattutto sulle prime uscite il tichettio è una poesia cardiaca quella di vocativo proprio biologica legata al corpo che rifà come un elettrocardiogramma il tichettio si sente il rumore del cuore in quel testo diceva una capacità di lettura che appunto è necessità anche dal punto di vista dell'attività diciamo così di critico di riassorbire sempre in questo lavoro di riassorbire far sua e restituire l'intera tradizione un altro punto importante poi vado verso la fine così magari ho lasciato apposta cosa che non ho fatto l'anno scorso un po' di spazio per lo scambio il dibattito un'altra ragione di rinunciabilità può essere a mio parere la capacità nell'arco della sua produzione poetica di rappresentare sia l'alta poesia lirica appunto non recidere forbice quel volto siamo se facessimo la scansione siamo proprio dal punto di vista del tono nella più alta poesia lirica sia anche la poesia verso la prosa come sappiamo cioè la stagione post bufera da satura in avanti è appunto una stagione che scende a patti con la realtà senza dubbio con il quotidiano con gli oggetti con i fatti diciamo minimali dell'esistenza però in che termini e in questo senso può essere usato bene allora per quello che riguarda diciamo l'alta poesia e la poesia lirica sappiamo in che ambito ci muoviamo la nostra linea è la linea che da Petrarca attraversa attraversa i secoli la linea diciamo così vincente quindi quella petrarchesca i rami collaterali di poesia realistica diventano diciamo così sotto sotto rami sotto appunto derivazioni collaterali e marginali per quello che riguarda invece ed è una come dire un tratto tipicamente novecentesco la poesia che va come si dice verso la prosa Montale ci mostra qualcosa di molto importante spesso il tasso di prosasticità di un testo poetico si misura attraverso vari paradigmi attraverso vari indicatori si può trovare dal punto di vista eletticale l'incidenza per esempio di alcuni campi semantici legati al quotidiano all'oggettuale soprattutto oppure vado così per campionature di nessun valore scientifico dal punto di vista del registro per esempio non del lessico ma del registro il tasso di prosaico nella poesia può essere misurato dalla quota di colloquialismi dagli inserti di dialogo per esempio dalla quota proprio di parlato come dire rappresentabile in varie figure in varie forme all'interno appunto del testo di poesia oppure tante altre cose è vero che però il montale ci mostra la cosa più importante quello che non dovremmo dimenticare mai e cioè che una poesia può essere tutte queste cose non un testo poetico può essere prosaico perché parla prosastico perché parla appunto del prosaico perché parla del quotidiano perché parla perché ha campi semantici non alti ma invece quotidiani perché ha gli inserti di dialogo le persone le figure ma dal punto di vista dell'orchestrazione formale del testo al netto dei contenuti del lessico del registro il tono diciamo così della poesia deve restare alto pensate ai testi di Satura a lezione professore facevamo sempre quando ci spiegava questo la poesia scoprimmo che al porcospino piaceva la pasta al ragù e ci spiegava appunto il professore a lezione come una poesia che parla ce ne sono tante che parlano di animaletti nell'ultima stagione di Montale anzi fino al quaderno dei quattro anni ci sono tante poesie sugli orfanelli i porcospini i passerotti c'era poi una delle ultime proprio delle ultime scritte il piccolo figlio di Minerva ve la ricordate che parla di quel civettino neonato che poi muore e ad un certo punto lui dice molti dissero che era un orfanello e lui si rivede vabbè in questa diciamo orfanità di questo batuffolo ecco tutte le poesie da Satura in avanti soprattutto quelle più legate ai fatti quotidiani certo sono fatte di paste a ragù di porcospini di nella poesia dei porcospini di Carabinieri leggiamo l'avevo tutte poesie da leggere non ho letto niente per paura di non fare in tempo 365 si intitola A pian terreno e dice appunto scoprimo che al porcospino piaceva la pasta al ragù veniva a notte alta lasciavamo il piatto a terra in cucina teneva i figli infruscati vicino al muro del garage erano molto piccoli gomitoli che fossero poi tanti il guardia sempre al ticcio non era sicuro più tardi il riccio fu visto nell'orto dei carabinieri non c'eravamo accorti di un buco tra i rampicanti allora non abbiamo neanche bisogno di dire come parli di episodio quotidiano questo testo e anche gli altri ma ad analizzare l'orchestrazione formale del testo si sente non ho bisogno di fare diciamo così analisi approfondite ma soltanto l'orecchio scopri la cadenza scoprimo che al porcospino se contassimo le sillabe saremo nell'alta poesia non nella poesia diciamo stonata e vicina alla prosa come spesso malamente si interpreta la poesia prosastica cioè una poesia che somiglia alla prosa dal punto di vista del tono e al parlato scoprimo che al porcospino piaceva la pasta e il ragù già questo si sente l'endecassillabo veniva a notte alta lasciavamo il piatto a terra in cucina teneva i figli infruscati qua Montale non poteva non regalarci un termine che sembra preso quasi dagli ossi di seppiano infruscati cioè un come dire un preziosismo vicino al muro del garage però poi si abbassa di tono erano molto piccoli gomitoli piccoli e gomitoli assonanza proprio che fossero poi tanti il guardia sempre alticcio non era sicuro più tardi il riccio fu visto rima interna queste sono proprio diciamo fenomeni di superficie potremmo leggere queste altre e trovare che ripeto al netto dei contenuti al netto dei registri al netto del lessico la testura formale e quindi figure foniche ritmo e intonazione del testo sono quelli appunto della dell'alta tradizione poi c'è un altro ancora un altro punto a mio parere rilevante un punto molto discusso obiettivamente di Montale e cioè Montale persegue Montale è un poeta filosofo un poeta filosofo nel senso che non è da tutti e non è di tutti i poeti della nostra tradizione avere diciamo così una visione del mondo rappresentato in una specie di sistema come sappiamo filosofico cioè l'idea vi ricordate i formiconi degli approdi viene molto bene insatura quest'idea degli uomini come automi e quindi in questo nastro sempre uguale a se stesso che rappresenta l'esistenza e che scorre sempre ininterrottamente poi c'è che cosa dice Montale un imprevisto e la sola speranza cioè c'è quel come dire passaggio a vuoto quel sabotaggio dell'esistenza che però è l'unica no lo squarcio nella rete insomma tutte le figurazioni di salvezza che nella poesia di Montale abbiamo quindi da una parte è un poeta che ha costruito un suo sistema di visione del mondo diciamo così e ha assunto la poesia come elemento salvifico come sappiamo cioè non solo attraverso la poesia attraverso l'occasione si apre il varco si apre si apre lo squarcio ma al di là di questo che in realtà non volevo approfondire oltre quindi alla visione del mondo Montale è significativo anche perché ci può aiutare attraverso la sua declinazione del nesso poesia-storia che è un nesso importante per la poesia del novecento in generale per la poesia si può diciamo così analizzare criticamente la questione della poesia civile sapete che Montale con la poesia civile o comunque il rapporto con la storia ha vissuto in anni in cui la storia bussava forte come sappiamo ha fatto diciamo così è stato preso diciamo come antagonista polemico da molti altri autori soprattutto da Pasolini evidentemente o da Fortini cioè da quei poeti che ideologicamente proponevano la poesia come strumento ideologico in qualche modo cioè come testimonianza ecco dicevano entrambi come testimonianza della storia Montale la storia l'ha testimoniata a modo suo come sappiamo l'ha testimoniata a modo suo e cioè in alcuni testi come per esempio come sappiamo ciò che non siamo ciò che non vogliamo è stato letto a posteriori come una dichiarazione di non appartenenza diciamo così al regime una posizione afascista o chiaramente antifascista però sono naturalmente delle tracce piuttosto coperte quelle di sua come dire posizione chiara rispetto rispetto alla storia quindi è stato molto diciamo assunto soprattutto ovviamente dopo il 45 dopo l'anno l'anno cerniera lo chiamava Caproni l'anno spartiacque in cui si riapre il dibattito polemico in maniera molto forte e virulenta nei confronti degli autori che prima del 45 cioè negli anni del ventennio e negli anni e negli anni della guerra non avevano assunto una posizione a catastrofe fatta come sapete sarebbe bello insomma parlarne però il dibattito dice proprio questo cioè ha proprio quasi linciato i poeti che non si sono schierati Montale era uno di questi beh certo c'erano gli ermetici che erano insomma da Pasolini soprattutto presi come il male assoluto se ne stavano nelle torri d'Avorio a raccontarsi una storia fatta di isole utopie e in un linguaggio assolutamente antirealistico cioè un linguaggio che con la vita e la storia non aveva nulla a che fare una grammatica costruita quindi su una lingua appunto extra reale diceva lui e certamente però anche Montale era un oggetto polemico lui rispondeva sapete che ha risposto in una poesia Pasolini in maniera chiara che è lettera a malvoglio in cui risponde risponde in versi quindi non si sporca con diciamo così la dialettica alla quale non crede dice in molti testi che la dialettica diciamo così non serve e non genera verità ma la verità è solo ciò che si sedimenta e passa oltre dice in un testo che si intitola appunto la verità ma certamente questa sua diciamo così assunzione queste sono le sue dichiarazioni di una posizione rispetto alla storia di sostanzialmente osservatore ecco non collusivo non diciamo omertoso ma una posizione di distacco assoluto era il modo a suo dire di garantire ai suoi testi e alla poesia stessa all'eternità cioè la poesia non è la storia la poesia non è neanche la realtà e per diciamo così fare in modo che vada oltre che passi oltre che possa essere lui lo usava senza timore questo termine eterna adesso avremo forse un po' diciamo così di difficoltà ad usarlo il rapporto con la storia doveva essere fortemente mediato naturalmente beh insomma non faccio insomma la telecronaca poi delle contro risposte a questa a questa posizione anche perché erano anni appunto vivi ma insomma ecco attraverso Montale si può diciamo leggere criticamente ragionare e diciamo così approfondire il nesso appunto storia e poesia e proprio diciamo così quella piccola direttrice identificabile nella storia della nostra tradizione poetica che è la poesia civile che è una piccola direttrice insomma andrebbe anche forse come dire ricostruita rivista un po' certamente nel novecento il post 45 il post guerra con gli anni 50 e 15 Neri di Gramsci e poi tutti i testi di Fortini e poi anche fino alla neo vanguardia per certi versi sono un buon documento con il quale far discutere Montale che ha vissuto a lungo e quindi diciamo così ha parlato con tutti diciamo i protagonisti poi l'ultimo punto e poi appunto smetto il forse diciamo così la ragione maggiore la ragione sembra la più banale ma nel profondo è forse la più la più rappresentativa e cioè la poesia diceva Montale per essere poesia deve avere una voce se un poeta non ha una sua voce può fare il verso a se stesso può scrivere appunto come nel titolo di una delle sue poesie iniziali può scrivere in falsetto può far finta di averla può far finta dice ancora di assomigliarsi ma la poesia è quella cosa che appunto ti suona prima nelle orecchie e quella cadenza ogni poeta l'ha chiamata a modo suo questa specie di orecchio interno che media poi la costruzione del testo poetico che dà che attribuisce il tono alla poesia ecco quella cosa lì è la poesia stessa sostanzialmente Montale certamente la sua voce ce l'ha ce l'ha così tanto che come piccola prova empirica ricordo bene che Zanzotto diceva ma io Montale lo leggo poco e anche altri poeti più vicini a noi perché se mi entra nell'orecchio non esce più cioè è una voce ed effettivamente anche nell'esperienza di noi lettori penso che questo ci arrivi molto forte cioè ha una chiamiamola cadenza non entriamo in tecnicismi per cui potremmo dire scientificamente esattamente da che cosa è prodotto quell'andamento del testo poetico del testo poetico di Montale diciamo ha questa voce autonoma e così anche costruita attraverso le varianti con tutto un lavorio piuttosto complesso che lo fa essere talmente tipizzato talmente Montale da essere quasi diciamo una sorta di da generare una sorta di timore di tipo virale perché questo anche Raboni lo diceva cioè quando entra nei testi fai fatica a sradicarlo diventa l'idea era un po' quello che era Petrarca per per altri poeti per i poeti del Cinquecento cioè entra così tanto dentro che il suono stesso diventa il suono stesso della poesia certamente il trovare una voce sembra una come dire una pratica formalmente semplice ma è una pratica e questo lo dicono tutti i poeti una pratica straordinariamente complessa perché c'è un limite un discrimine molto labile tra l'avere una voce propria e il farsi il verso in questo Sereni forse è stato quello più onesto come spesso è Sereni il più onesto e il più vero di tutti diceva è troppo facile trovare come dire la voce della poesia nelle pagine degli immediati dintorni lo dice è una pratica su cui tutti noi ci arrovegliamo lo ripeto male ma ad un certo punto quando come dire il tono dei nostri versi la cadenza dei nostri versi diventa proprio nostra è lì che il pericolo diventa massimo il pericolo diventa massimo perché tendiamo a rifarci il verso e lui parlava e quindi diventa un'operazione per certi versi facile entriamo noi stessi nel nostro orecchio e il verso lo componiamo con quelle strutture questo non lo dice naturalmente quelle strutture sintattiche quelle figure di suono quegli ictus quei versi quelle diciamo quell'orchestrazione di tutti i livelli del testo poetico congiunti in modo da farlo suonare naturalmente in quel modo è una cosa naturale noi quando la studiamo dissezioniamo il testo ma per i poeti non sono certo degli artigiani o dei tecnici evidentemente della poesia e allora Sereni diceva quando io mi accorgo che anche soltanto in una porzione minimale di testo comincio a farmi il verso cioè comincio scatta in me la nausea metrica che è una definizione bellissima profondissima di Vittorio Sereni e cioè è troppo facile Sereni diceva io scrivo mettendomi continuamente in difficoltà cioè mettendomi sempre degli ostacoli dal punto di vista della forma e soprattutto della metrica se una cosa mi viene troppo naturale boicotto cioè vado e sostanzialmente diciamo così di sabotaggio in sabotaggio non scrivo scriveva evidentemente molto poco ecco Montale attraverso quest'idea di nausea metrica cioè di non rendersi la vita facile come non faccio l'elenco ma alcuni poeti hanno fatto cioè alcuni poeti si somigliano un po' troppo a loro stessi nei versi tant'è vero che Montale diceva diffidate sempre da quei poeti che sono facilmente imitabili allora se un poeta è facilmente imitabile cioè se io posso fargli una parodia diciamo così posso no facciamo attenzione perché forse c'è qualcosa che non va ecco certamente Montale è come dire un monumento un emblema dal punto di vista di costruzione della voce ma una specie di agente di contagio per i poeti che lo guardano insomma con sospetto e che ne stanno lontani ma certamente non è una a cui è facile fare il verso quindi anche per questa ragione che poi è proprio il fondamento a mio parere il cuore della poesia quello dell'avere una voce può essere a tutte con piena legittimità messo appunto tra tra gli rinunciabili direi che posso chiudere qua